salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci ritroviamo su dissidia final fantasy o però mia versione giapponese perché oggi è uscito pronto pronto che non ha preso un vero e proprio rework ma ha preso una buona arma ld almeno sulla carta sembra essere davvero una buona ld è per questo che oggi ho deciso di tentare la fortuna e vedere di riuscire ad accaparrarmi la nuova arma pronto io già ce l'ho viola l'ho già preso ai tempi quindi ce l'ho già maxato più che altro ai tempi per cui trovargli ld potrebbe essere un qualcosa di buono per quanto riguarda il mio roster ha una meccanica un po tutta sua un po particolare uno pseudo tank mettiamola così ed effettivamente potrebbe ritornare utile in qualche occasione ovviamente con lui sarà sinergia anche aranea dato che stiamo parlando per l'appunto del lost chapter di aranea e come potete vedere abbiamo la prima multi gratuita aranea che torna ovviamente in sinergia che ovviamente essendo la protagonista essendo la protagonista del suo lost chapter con la sua arma ld abbiamo anche ace dato che ovviamente il sinergico chiamiamolo così dell'arma burst e poi rem che rimane lì sullo sfondo dove praticamente fa il terzo incomodo anzi il quarto incomodo quasi l'arma ld di pronto è questa la faccio vedere così giusto un attimo in anteprima che è ciò che desideriamo in questo momento io direi di andare di free pull e poi vedere effettivamente se spendere i ticket e soprattutto quanti i ticket spendere è abbastanza è andata piuttosto malino e già va bene va bene va bene va bene peccato free multi poteva essere un ottimo metro di guadagno abbiamo 656 ticket penso che probabilmente questi 56 ticket possiamo spenderceli abbastanza tranquillamente per cui silenziamo il tutto mettiamo una bella musica da pull che tra l'altro per l'occasione ho già pronta essendo pronto un personaggio con una host molto molto figa e direi che ci possiamo sentire dopo le pull detto ciò vi auguro buona visione ciao 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 non abbiamo nessun loading strano speriamo sicuro speriamo speriamo ovviamente quale poteva essere delle due se non Aranea ma certo ma certo puoi prendere due ld noi ti diamo quella che hai già giusto assolutamente corretto assolutamente corretto però siamo a 600 ticket considerando che posso tornare bene o male a questa stessa cifra per Zack che esce in appena due giorni forse arriviamo a 550 che ne dite? la proviamo? proviamola che esce in appena di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.